Ma l'artista postumano secondo me è uno che semplicemente vive, non fa nient'altro cioè diciamo l'arte può esistere soltanto in un sistema umano, non esisterebbe più in un sistema postumano, i cani non fanno arte, così non fanno arte i delfini, ma sono arte appunto e il cane è arte, non fa arte, l'uomo deve fare le cose perché non è quelle stesse cose, postumano semmai avverrà, semmai esisterà, sarà essa stessa arte, quindi non ci sarà più bisogno di fare arte o di fare filosofia, l'identikit di un artista postumano, io penso che ciò di cui noi sappiamo non è così rilevante, secondo me è pieno zeppo di artisti in questo mondo postumani e proprio per questo noi non ne sappiamo il nome.